Ciao ragazze e benvenute in un nuovissimo video shopping, ci stiamo sempre più avvicinando al Natale oggi è una splendida giornata, cioè c'è il sole, si sta bene, quindi sono contenta diciamo di ciò sapete la mia meteoropatia cronica, sono estremamente una persona meteoropatica, mannaggia e oggi c'è un bellissimo sole, quindi fantastico, quindi io sono abbastanza gioiosa, gioiosa per il meteo e niente, volevo farvi vedere un po' di cosine anche oggi allora, partirei subito da questa felpina che mi piace, non era questa, però vabbè, guardiamo anche questa è della Ciuplay, è una felpina super carina che ho deciso di mettervi in sconto grigia in taglia unica, io vi consiglio assolutamente fino alla L, una felpina grigia, molto particolare perché, vabbè, ha queste scritte qui con tutte le perle argentate e gli strass e la cosa bella è che dietro è tutta aperta, quindi è molto particolare ovviamente va messa, tipo, io questo maglione, non so cosa mi sia saltato in mente di metterlo sotto, dentro questi pantaloni, perché ultimamente, avendo perso qualche chiletto mi vanno tutti larghi i pantaloni tagli a 44 che mi ero comprata, mannaggia, tutti nuovi tipo questi qua di H&M, belli cortini tra l'altro, vabbè, no vabbè, non ve li faccio vedere perché non è un video outfit, comunque vabbè e quindi ci cazzo dentro tutti i maglioni possibili, immaginabili, perché mi vanno grandi basta perdere qualche centimetro, tac e... sono 44, credo che sia un 44 ho anche dei problemi avendo fatto palestra comunque niente, quindi mi metto dentro strati di maglioni per farmeli andare bene e sono larghi lo stesso, vabbè dicevo, questa telpina qua è molto carina, sta proprio anche abbinata a modi, è una specie di modi poncio diciamo, ho deciso di mettervele sconto a 4 euro, quello svuota tutto, vi farò un po' di svuota tutto qua e là poi, devo ancora recuperare i messaggi degli ultimi video, quindi non fateci caso se vedete cose che mi avete prenotato della Fancy Collection di Zara taglia 13-14 anni questo maglioncino grigio che risponde comunque a un SM molto carino, guardate il fondo fatto così tipo a modi felpina questo qua anche special price, ragazze 5 euro grigio sempre svuota tutto magliettina di mango taglia M molto bella anche questa col peplum, abbastanza leggerina nera basic, guardate che carina con la balsa anche questa svuota tutto 5 euro vi faccio un po' di svuota tutto se vi va che così almeno buttiamo fuori un po' di roba questo anche mi ha un po' rotto le scatole è un gilet grigio di persona taglia XL cioè neanche mi ha rotto le scatole è un po' che ve lo voglio far vedere abbastanza lunghetto bello ampio siamo sul 48-50 e ve lo metto anche questo a 5 euro in promozione ha un capo particolare da portare aperto ci sta un po' sportilino anche questa ve la metto in sconto che è una giacchina tipo effetto tweed allora taglia M 65% lana mica cicchine è un 42 guardate che carina che è però fatta così ok e questa qua ve la metto in special price a 8 euro svuota tutto cappottino cocco nuda anche questo svuota tutto svuota 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 80% lana taglia M 42 è grigio 80% lana ve lo metto in special price non è una M esagerata special special price ragazze 6 euro mi sono rovinata si cappotto ormai vi faccio un po' di sconti perché qua ci mettono in zona rossa questo è un cappotto vintage vintage guardatelo verde stupendo come taglia è di sicuro di lana senza che senza che facciamo il dubbio cioè senza che abbiamo il dubbio ma comunque lo controllo allora taglia L 85% lana fantastico vediamo che genere di L è e la vestibilità questo ve lo metto in promozione ragazze a 14 euro ed è bellissimo il colore guardate che meraviglia di un capospalla anche su di me anche con un basco anche portato così oversize madonna cioè è la fine del mondo è stupendo aspettate che non so perché c'è questo scattolone che ho fatto a portare oggi e lì sotto le scatole guardate che la meraviglia di questo cappotto il prezzo è in svuotatutto cioè è tanta roba quel prezzo lì svuotatutto ma quando faccio di svuotatutto io non ce n'è per nessuno mi dispiace ma sono imbattibile nei miei svuotatutto poi vi faccio vedere per cercare delle cose che non vi ho fatto vedere che magari non avete già prenotato e devo ancora mostrarvi altro cappottino verde anche questo qua vintage ormai vi faccio vedere anche questo tanto siamo qua vintage vintage questo è quello che avevo fatto vedere in un video c'era anche nel rosso ed era di un materiale fantastico cento per cento no perché c'è solo la fodera 90 lana vergine e 10 cashmere qua siamo a livelli sublimi di composizione e questo ve l'avevo già fatto vedere nel rosso è rimasto nel verde è stupendo anche questo guardate anche solo col mio outfit come ci sta quasi quando me lo tengo io che cambio col mio teddy è stupendo questo ve lo metto in special price ragazze a 16,90 euro lana più cashmere ma va bene fino alla L morbida sono dei prezzi che sono prezzi pazzi tutto successo fuori tutto allucinante la drone mi tocca nel senso che vi voglio fare un po' di sconti perché qua altrimenti allora Patrizia Peppe anche questo è il super sconto è un vintage di Patrizia Peppe dice che è un 44 un abitino fatto davvero da dio Patrizia Peppe sapete che è un brand pazzesco e soprattutto nel vintage è un abitino che è un 44 ma in realtà è un 40 ed è stupendo ragazze anche questo ve lo metto in svuota tutto a 12 euro Patrizia Peppe quindi svuota tutto non si provano e per questo vi faccio questi prezzi bomba blazer di Benetton mi sto per uccidere blazer di Benetton stupendo anche questo taglia 48 se volete un blazer strutturato eccolo non è un 48 vero ovviamente sarà un 44 46 cioè va bene a me col maglione però 44 anche morbida però vedete come sta ecco anche questo special price ragazze 12 euro blazer nero le condizioni sono perfette ed è in svuota tutto pure lui cioè una meraviglia ma guardatelo questo è bellissimo tra l'altro mi sta bene anche con questi outfit vabbè ci sta abitino nero tipo in maglia un po' anni 60 anche questo con il collo a ciambella qua siamo sulla taglia 42 e anche questo è in svuota tutto a 2 euro e 50 è usato ma in buone condizioni ancora portabile ci sta un sacco sempre svuota tutto vi faccio vedere altre cose che ho qua aspettate camicia di Zara taglia S a righe bellissima bianca e nera anche questa è in special price a 3 euro taglia S bella da mettere sotto i maglioni anche un maglione bianco tipo il mio con sotto questa che sbuca ci sta un sacco anche questa svuota tutto bella beautiful canotta di pizzo della Northland anche qua siamo boutique taglia S bellissima anche questa come sottoveste come roba da mettere sotto vestitini un po' velati ci sta un botto molto molto bella Northland special price svuota tutto a 5 euro Northland ripeto lo ripeto perché anche questo me lo metto in svuota tutto questo ce l'ho anch'io SM bellissimo abito nuovo ed è in svuota tutto a 12 euro ragazze 12,90 vi devo fare scusate non 12 12,90 SM me lo vedrete addosso questa primavera è meraviglioso special price fantastico e poi vi faccio vedere questa dolce vita di intimissimi anche questa molto molto carina taglia 44 ml sono comunque in tipo quel tessuto sono intimissimi quel tessuto bello stretch comunque veste bene un 44 blu notte intimissimi ed è in svuota tutto ragazze a 4 euro ottima per quelle che hanno freddo da mettere sotto i vestiti ci sta un botto ci sta ci sta ci sta gondellina simil desigual taglia M 42 anche questa è in special price ragazze guardate che carina per l'estate special price 4 euro estiva questa che bella questa è una canotta taglia unica bellissima sottogioca meraviglioso anche questo per l'estate mi ringrazierete e anche questo ve lo metto in svuota tutto a 4 euro e 50 condizioni perfette taglia unica fino a una 44 ci sta un botto tutto svuota 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 svuotiamo tutto alla grande anche questo in svuota tutto era già stato venduto e tornato in vendita di Zara se non ricordo male di Zara taglia M ma non è una M in realtà è una S è un vestitino un S morbida un vestitino a tubino verde particolarità di avere la zip dietro questo qua è in svuota tutto ragazze perché è un po' che ce l'ho qui a 5 euro super carino bello il verde vanghiera anche questo è in svuota tutto è una 14 anni original marines vestitino sporty chic va bene ha una SM ed è a 3 euro e 50 in svuota tutto bello il materiale fatto così mi piace molto svuota svuotiamo 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 tutto quanto poi vi faccio vedere aspettate che avevo anche delle scarpe da farvi vedere queste adidas che erano 42 se non sbaglio 42 originali adidas sneakers ok le avete viste condizioni perfette e queste qua sono a 15 euro e 90 adidas svuota tutto svuota svuota tutto e poi vi faccio vedere questa camicia qua di nuovo di Terra Nova taglia L no scusate di Zara taglia L non Terra Nova 1 euro e 50 taglia L ovviamente è 42 44 anche questa è in svuota tutto ok poi 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 c'era ancora qualcosa da farvi vedere aspettate che controllo scusate ah ecco vi faccio vedere anche questo bel gile di ecopelliccia grigio molto molto carino pure lui con la sua cinturina che potete ovviamente cambiare bellissimo pelo molto morbido ecologico sm ragazze e questo qui ve lo metto a 12 euro special dress anche lui e anche questa ve la volevo scontare che l'avevo già fatta vedere stupenda vintage di Anna Maria Morandini e ho deciso di mettervela in sconto ragazze è un 42 44 è bellissima guardate che meraviglia questa maglia qua barocca ve la metto in sconto ragazze a 5,90 prezzo folle folle direi folle proprio e anche questo giacchino ve lo voglio scontare già che ci sono l'ultimo di questo video lavato anche in lavanderia tra l'altro nero in tipo vinile bellissimo anni 90 proviamolo così ve lo faccio vedere indossato come taglia siamo sul 42 44 bellissimo guardate che carino ha un po' effetto anche blaze va tantissimo anche questo effetto lucido quindi è molto 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 di tendenza e ve lo metto in special price ragazze a 6,90 euro penso che per adesso possa bastare in realtà voglio farvi vedere ancora qualcosa aspettate un attimo che stop no ecco voglio farvi vedere qualche sciarpa qualche cappellino allora questo è un pezzo di pelliccia tagliato male sembra vera cioè è un pezzo proprio di soffa e questo ve lo metto ragazze in promozione a chi interessa che ci si può ricavare qualcosa mi sa che è proprio pelo vero ve lo metto in promozione a 6,90 euro poi vi faccio vedere questa sciarpa beige molto carina tra l'altro mi si abbina perfettamente con l'outfit una roba pazzesca e questa qui ve la metto in promozione ragazze a 2,50 euro molto bella guardate che bella come sta bene con l'animalieur e il bianco ci sta un sacco ed anche un sacco di luce poi vi faccio vedere questa berrettina bordeaux questa è di Complete by Marisa hanno tolto purtroppo hanno tolto la composizione quindi non ce l'abbiamo berrettina rossa bordeaux fatta così e questa qua ve la metto a 2,50 euro sciarpettina leggerina molto carina anche questa bianca grigia materiale viscosa 20,80 poliestere una bella sciarpa bianca con tutte le farfalle meraviglia bella anche questa da mettere con i cappotti ci sta un sacco guardate che che luce che dai che allure super francesina che può dare una sciarpina e questa qua ve la metto ragazze a 3 euro è fatta molto bene altro fullaretto allora questi tra l'altro sono molto molto belli molto eleganti anche questo è nero e grigio e bianco con questi fiori c'è la spilla proprio messa qua aspettate che vi cambio il posto perché non riesco a aprirla scusate allora non posso dove metterla non c'è una composizione questa è molto carina questa per me sta benissimo anche nei capelli tra l'altro non faremo la prova ovviamente se la state pensando no questa viene 4,50 euro ed è bellissima perché è anche un po' più stretta e più lunga e guardate la trama che meraviglia molto molto leggera anche questa sopra i cappotti ma anche adesso la potete usare tranquillamente poi vi faccio vedere questa invece che è un po' più stravagante allora questa è gialla e rosa fantastica ed è 92% lana e 8 seta è una sciarpetta indiana bellissima anche questa ragazzi lana più seta colore veramente strong molto molto pop sarebbe da baule questa tra l'altro lana più seta un ottimo materiale vedete che meraviglia sta benissimo secondo me con cose guardate che bella con cose tipo un bel cappotto colorato mi piace il fatto che sia da un lato giallo e da un lato rosa è bellissima e questa qua ragazzi ve la metto a 9,90 ottimo il materiale l'avete sentito e l'ultimo è questo foulard maculato scusate se vado un po' rapida ma sono un po' di fretta a dire la verità ed è anche bello anche questo anche da mettere nei capelli assolutamente e questo qua ve lo metto a 2,50 euro e si abbina perfectamente al mio pantalone cioè sembra lo stesso ha praticamente quasi lo stesso tono di animalio fantastico spero che questo video vi sia piaciuto vi abbia fatto compagnie ragazze noi ci vediamo nel prossimo video che dovrebbe essere allora domani sono a riposo perché è mercoledì la vigilia che in teoria non possiamo essere aperti al pubblico ovviamente magari cercherò di venire in negozio ovviamente chiuso al pubblico e di farvi qualche video così per alietarvi anche a Natale e Santo Stefano e niente noi ci vediamo nel prossimo video grazie a tutte ci vediamo nel prossimo video grazie per avermi per avermi visto e per essere sempre molto carine con me ciao ciao a tutte grazie a tutti grazie a tutti